Gentili in coppia, benvenuti a questo carnevato. Ogni gentil cavaliere prendesse la propria dame. Bene. Venti signori, vengono. E' molto semplice. Ogni cavaliere prende la propria dame. Bene. Attenzione. Ci sono quattro passi a sinistra che comandano l'uomo. Quattro a destra. Due a sinistra. Due a destra. E giro. Insieme con me. Uno, due, tre e quattro. 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 OBER Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.